Il 2020 muove i primi passi nel campo della promozione turistica, primo banco di prova per la Versilia che ha appena visto nascere il tanto atteso ambito di destinazione, ente istituito e finanziato dalla regione per promuovere il brand Versilia dopo anni di campanilismi, sarà la Borsa Internazionale del Turismo, appuntamento di assoluto riferimento in programma a Milano dal 9 all'11 febbraio. Una delle vetrine più prestigiose dove promuovere il territorio, con i tour operator e i professionisti del settore da tutto il mondo, dove in passato i comuni costieri si sono presentati in ordine sparso. Ma quasi sicuramente neppure stavolta la Versilia parlerà a un'unica voce, in un unico stand nei padiglioni milanesi, già confermata la presenza, sotto il tetto di Toscana Promozione, del Consorzio di Promozione Turistica della Versilia, soggetto che gestisce gli uffici turistici dei comuni di Camaiore e Pietrasanta. Ma è quasi certa anche la partecipazione del neonato ambito, in rappresentanza di tutti i comuni, come ci riferisce il sindaco capofila Bruno Murzi di Forte Remarmi. Saremo presenti a Milano e anche ad altre fiere di riferimento nel 2020, negli spazi di Toscana Promozione, per far conoscere il prodotto Versilia. Nessuno dall'ambito ci ha contattato, né dai comuni singoli, commenta con amarezza. Il presidente del Consorzio della Versilia, Carlo Alberto Carrai, che auspicava un coinvolgimento. Noi mettiamo comunque a disposizione il lavoro fatto in questi anni, prosegue Carrai, con strumenti già finanziati dalla regione, come il portale inversiliab2b.com, la fiera virtuale lanciata oltre un anno fa per mettere in contatto domanda e offerta e che ha generato in soli 18 mesi oltre 20.000 contatti.